Presso il centro commerciale Il Giardino di Avola e a Siracusa presso il centro commerciale I Papiri è tempo di sconti. Da Crazy House trovi la qualità che cerchi ai prezzi più convenienti. Trapunte invernali al 50%, pigiami uomo, donna, bimbo e bimba al 50%, completo letto al 50%, copriletto una piazza a soli 6,90€. I prezzi più bassi solo da Crazy House. Vi aspettiamo presso i nostri punti vendita!